Firenze, città circolare, tra pochissimo ne parleremo con i nostri ospiti, prima però come sempre il saluto e lo ringraziamo alla regia e lavoro di Luca Paradisi ma anche gli amici che ci stanno guardando sul canale 841 del Digitale Tererestre, chi ha deciso invece di seguirci in streaming lediradio.it, chi tramite i nostri canali social ma anche chi ci riascolta in replica, un saluto naturalmente anche a loro così come chi ci riascolta sul nostro canale YouTube lediradio Firenze dove vi invitiamo naturalmente ad iscrivervi così come seguire sui nostri social anche tutti quei sondaggi che lanciamo ogni giorno, più tardi ne lanceremo un altro che riguarda proprio il tema del GR del mattino che affronteremo subito dopo lo spazio insieme agli amici di Alia, spazio nel quale voi potete naturalmente intervenire al 3925-727775 tramite sms, whatsapp anche audio oppure allo 055-572637 ambiente, economia circolare e tutte le novità sulla raccolta differenziata a Firenze per essere insieme al centro del cambiamento la saluto perché qua con noi in studio Raffaella, una delle ragazze e dei ragazzi che fanno parte dell'A-Team, ciao Raffaella ben ritrovata buongiorno Eva, buongiorno a tutti invece diamo il benvenuto ed è un piacere ospitare Luca Talluri, presidente di Casa Spa Firenze, grazie per essere con noi, benvenuto in trasmissione grazie a voi, buongiorno e allora l'associazione di cui è presidente Casa Spa fa parte del patto per l'economia circolare del Comune di Firenze ci vuole illustrare quindi ai nostri, a noi anche agli ascoltatori, il vostro lavoro, di cosa si occupa l'associazione e perché siete i firmatari del patto? beh Casa S.p.a. è una società a totale capitale pubblico dei comuni della provincia di Firenze, compreso il Comune di Firenze e gestisce le case popolari, gestisce le case popolari tutto il territorio fiorentino, compreso la città di Firenze per noi è naturale, giusto e logico, stare dentro il patto proposto dal Comune di Firenze per l'economia circolare noi siamo un pezzo di questa città ed è giusto e logico contribuire con le nostre azioni, il nostro lavoro all'attuazione del patto insomma avete percorso i tempi, possiamo dire così, e cercato anche di sviluppare questo approccio sostenibile nell'edilizia da tempo Alia Servizi Ambientali e l'amministrazione comunale sono impegnate proprio nella sensibilizzazione e il coinvolgimento dei cittadini vista proprio questa trasformazione del servizio di igiene urbana su Firenze ecco, come vede lei questo cambiamento per il nostro capoluogo? è un cambiamento necessario da un certo punto di vista perché è necessario che il nostro capoluogo dia il suo contributo positivo a diminuire gli impatti ambientali complessivi ed è un cambiamento che chiede ai cittadini di fare un salto di qualità ed è giusto accompagnarli, l'accompagnamento come dire alla cittadinanza, l'accompagnamento all'abitare permettono di migliorare e crescere da un punto di vista anche personale quindi io credo che questa scelta importante che Alia insieme al Comune di Firenze stanno sviluppando sia un elemento che ci vede naturalmente coinvolti essendo noi gestori di alloggi pubblici e quindi di abitanti di questi alloggi che fanno parte della città E proprio ieri poi c'è stata anche una conferenza stampa presente anche il sindaco Nardella dove si è parlato molto di ambiente, di clima, cosa fare naturalmente per la nostra città Allora invece quali sono i vostri futuri progetti green per Firenze? Beh noi siamo impegnati da tempo su questo fronte Intanto da un punto di vista apprezzamente infrastrutturale, immobiliare il nostro obiettivo è costruire nuove case popolari ad alta efficienza energetica ad alto tasso di qualità dell'abitare i nostri progetti, i nostri cantieri vanno in questa direzione penso a Torre degli Agli che sta per essere terminato penso a Viale Giannotti penso a tanti progetti che sono in corso penso alle murate e quindi noi abbiamo dei progetti che sono il completamento delle murate il primo lotto della riqualificazione e di rigenerazione urbana di Torre di Rocca Tedalda progetti di nuove costruzioni che vedranno edifici ad alte prestazioni con anche forme sperimentali per l'uso della tecnologia e dei materiali però al tempo stesso anche la manutenzione straordinaria noi siamo molti impegnati a utilizzare il super bonus visto che l'unico settore pubblico che lo può utilizzare sono le case popolari ma anche i fondi complementari al PNRR che sono stati da poco deliberati proprio a ottobre di adesso la manutenzione straordinaria con efficientamento energetico per rendere più efficienti da un punto di vista dell'utilizzo dei combustibili e quindi essere edifici meno energivoli parallelamente c'è un tema anche legato a l'avere accettato la proposta del Comune di Firenze di rimboschire perché il tema delle piante è un tema centrale fondamentale in questo Comune di Firenze sta lavorando molto e bene anche con il supporto del Professor Mancuso all'idea di aumentare la superficie verde boscata proprio del verde nel senso più letterale e noi ci siamo resi disponibili per impiantare nei nostri resede un numero maggiore di piante secondo il progetto del Comune di Firenze idem le pareti verdi dove è possibile metterle e poi l'ultimo elemento su cui stiamo lavorando è quello che ricamavo anche prima dell'educazione all'abitare dell'accompagnamento all'abitare per far sì che i nostri abitanti degli alloggi di case popolari di utilizza sociale pubblica non solo utilizzino al meglio e al massimo i servizi pubblici a partire da quello della raccolta dei rifiuti ma anche tutto quel tema della cosiddetta resilienza che è un tema necessario per diminuire gli impatti ambientali quindi un'educazione dell'inquilinato degli abitanti grazie, grazie davvero all'intervento del presidente di Casa SPA Firenze Luca Talluri grazie per essere stato qua con noi su Lady Radio grazie a voi, buon lavoro grazie allora invece andiamo subito da Raffaella la nostra amica delle team allora stiamo so che state procedendo con quelle che sono anche le conseglie degli e-pass insomma proprio Alia qui seguirà da metà dicembre anche quello che è il posizionamento dei cassonetti digitali nella primaria coinvolta che cure Faentina possiamo ricordare allora come cambierà in sostanza la raccolta? allora prima di tutto vorrei ricordare ai nostri ascoltatori a tutti i cittadini che sul nostro sito www.firenzecittacircolare.it nella sezione a che punto siamo potete vedere tutte le vie che sono già state servite e quindi che hanno già ricevuto tutto quello che serve per il cambiamento della raccolta differenziata quindi seguiteci così rimanete aggiornati in tempo reale c'è il monitoraggio della situazione assolutamente sì e quindi per rispondere alla domanda quello che cambia è chiaramente la presenza di questa e-pass che permette appunto di identificare l'utenza e poi le bocche dei contenitori dei vari rifiuti ma è possibile avere l'e-pass anche se il sistema di raccolta in vigore sull'area di interesse è il porta a porta certamente questa è la domanda che anche i nostri ascoltatori insomma vogliono sapere è chiaramente sì è prevista l'e-pass anche per chi usufruisce del servizio porta a porta perché perché se per qualche motivo per un lavoro per un viaggio l'utente deve allontanarsi e non può rispettare il calendario di presenza dei rifiuti allora può usare l'e-pass e conferirli nei cassonetti più vicini a lui perfetto quindi ricordiamolo che l'e-pass è una chiavetta in sostanza allora che cosa fa? riconosce l'utenza quindi capisce chi è che sta conferendo i rifiuti quindi questo permetterà poi di premiare i cittadini virtuosi ma anche di fare in modo che lui conferisca nel modo corretto quindi meno errori più controlli eccetera bene perfetto allora andiamo invece a quelle che sono le domande della scorsa settimana e non siamo riusciti a dare delle risposte ai nostri amici tramite whatsapp al 3925 727775 dove vi invitiamo naturalmente a inviare anche adesso le vostre domande perché poi martedì prossimo arriveranno le risposte direttamente da Alia allora Massimo proprio scrive perché datele i pass anche a chi ha il porta a porta ricordiamolo nuovamente allora daremo Alia messo in servizio anche di i cittadini che usufruiscono del servizio porta a porta alla chiavetta proprio per il motivo che dicevo prima perché se ci sono dei momenti in cui il cittadino non può esporre i propri rifiuti secondo il calendario potrà usare l'e-pass come funziona l'e-pass può essere ritirata verso gli infopoint di Alia per esempio nel quartiere 2 potete ritirarla in piazza Alberti quindi il consiglio che dà Alia è di andare a richiedere la chiavetta una volta che il sistema sarà entrato in vigore quindi diciamo dopo dicembre ecco questo per qualsiasi cosa per qualsiasi informazione per visualizzare materiali informativi digitali per tutte le informazioni i tutorial seguiteci su Firenze Città Circolare il nostro sito ma anche i nostri social potete trovare veramente di tutto non avere proprio a transumanza nel venire a scaricare i rifiuti dagli altri comuni a Firenze con i cassonetti intelligenti il problema non rimarrà? no allora la chiavetta impedisce proprio di andare a conferire rifiuti in zone che non sono le proprie quindi per questo viene praticamente disincentivato il conferimento erroneo in più Alia ha portato avanti tante campagne di sensibilizzazione contro l'abbandono contro il conferimento sbagliato quindi chiaramente sta aiutando il cittadino a fare una ottima raccolta differenziata in più si ricorda sempre che il ritiro ingombrante è completamente gratuito quindi questo no non succederà Alessandra ci chiede ma lei passe è anche per i negozi? sì assolutamente per gli operatori di Alia stanno contattando tutte le utenze domestiche non domestiche presenti sull'area quindi una volta che avranno controllato la validità della Tari verrà data anche questa opportunità senti Raffaella un ascoltatore proprio adesso ci scrive ma quando togliete i vecchi cassonetti nel quartiere 5 dovevano scomparire entro il 15 novembre allora Alia sta cercando di venire incontro al cittadino insieme all'amministrazione comunale per fare in modo di avere un diciamo un cambiamento più delicato quindi fanno in modo che il cittadino si abitui quando andrà tutto bene rileveranno tutti i vecchi cassonetti e andranno tutto al regime quindi abbiate pazienza che poi insomma avremo modo di monitorare la situazione vi daremo ulteriori risposte insomma quindi la pazienza è la virtù dei forti quindi insomma è un lavoro di squadra bravissima quindi quando ci sono dei cambiamenti in atto dobbiamo dare anche ci sono dei tempi tecnici da rispettare grazie grazie Raffaella delle team Raffaella in chiusura vogliamo ricordare se ci sono degli appuntamenti con voi ragazzi delle team certamente ricordo per chi volesse seguirci che sempre sul nostro sito www.firenzecittacircolare.it ci sono tutti pubblicati i nostri appuntamenti con le team il 18 saremo al mercatino dell'usato di Novoli per esempio venite a trovarci ecco bene perfetto quindi mercatino dell'usato di Novoli grazie Raffaella delle team per essere stata con noi noi ci fermiamo piccolissima pausa poi torniamo insieme e lo faremo naturalmente con il tema del genere del mattino